ciao a tutti amiche e amici di bpm power e benvenuti in questo nuovo video oggi vi parlo della soundbar samsung hv s40t ma prima di iniziare vi invito se non lo avete ancora fatto a iscrivervi al nostro canale youtube ad attivare la campanellina per non perdervi nemmeno un nostro video questa è una soundbar con una buona qualità del suono il suo design realizzato con tessuti di alta qualità e le sue dimensioni sono di 68 cm di lunghezza 6,8 cm di altezza e 11,5 cm di profondità il peso è di 1,9 kg la samsung soundbar ha due woofer integrati e due twitter ha una potenza di uscita totale di 100 watt è possibile impostare questa soundbar oltre che la modalità standard anche in due diverse modalità audio musica e smart sound la prima modalità riconosce ottimizza i contenuti riprodotti in modo da preservarne la qualità la seconda smart sound analizza automaticamente le sorgenti audio per ottimizzare le tracce in base ai contenuti specifici che si tratti di un rumoroso evento sportivo o di uno spettacolo teatrale dai dialoghi sussurrati la soundbar offre un audio nitido e un'esperienza di visione ottimizzata la soundbar samsung supporta la connessione bluetooth la quale è possibile in due modi multiconnessione bluetooth e connessione bluetooth al tv quest'ultima collega semplicemente la soundbar al tv e riproduce all'istante i contenuti la multiconnessione invece consente di collegare alla soundbar due dispositivi mobili contemporaneamente un'altra possibilità per collegare fisicamente la barra è l'ingresso ottico attenzione perché non è presente l'ingresso hdmi per quanto riguarda i consumi l'azienda dichiara che questa soundbar ha un consumo di circa 25 watt in modalità standby invece il consumo è di soli 0,5 watt potete trovare la soundbar samsung su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione se non lo avete ancora fatto vi invito ad iscrivere al nostro canale youtube e di attivare la campanellina mettere mi piace alla pagina facebook e seguirci anche su instagram ciao a tutti e alla prossima